È stata una domenica di fiera dell'antiquariato e del grande ritorno dopo due anni di stop della giostra del Saracino, ma è stata anche una giornata decisamente significativa sul fronte della battaglia al Covid. Domenica 5 settembre ha fatto infatti tappa in città, nel cuore del centro storico, il camper vaccinale, che ha lavorato, grazie alla collaborazione tra Asla Toscana Sud-Est, Comune Misericordia di Arezzo, ininterrottamente dalle 9 alle 19. In tutto sono stati così 76 coloro che si sono vaccinati, 72 dosi Pfizer e 4 Johnson & Johnson. 24 di loro erano minorenni. Una bella risposta che è caduta nella giornata giusta, cioè in un giorno in cui Arezzo dimostra al mondo come si riparte e riparte, non deve mai mancare lo stimolo a che si riparte con la vaccinazione di massa. Quindi le due cose stavano veramente bene insieme. Il vaccino è ad oggi l'unica strada per uscirne. Se vogliamo uscirne, vogliamo uscirne. Se vogliamo riacquisire la nostra normalità, il vaccino è la strada per poterlo fare. Quindi tenere insieme queste cose è stata una dimostrazione estetica e plastica che si vince facendo le cose con coraggio, ma anche con intelligenza. Ieri in piazza Sant'Agostino tornerà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane il camper? L'idea è quella di farlo tornare il più possibile, di farlo tornare anche davanti alle scuole, in tutti i luoghi di aggregazione, perché noi siamo convinti che questa è la risposta e quindi dobbiamo potenziare la possibilità di poterla dare.